Il centro-sinistra comincia stamattina la sua campagna elettorale per le prossime elezioni, comincia dai consiglieri comunali di Bari. E da oggi sono aperte le iscrizioni alle primarie, da fare preferibilmente tra gennaio e febbraio, suggerisce Emiliano, ma lo decideranno i partiti, e poi le sortazioni a centro-sinistra e consiglieri, sbrigatevi a individuare i candidati. L'annuncio del sindaco di Bari Emiliano arriva sorpresa in un incontro convocato per parlare della portata storica della delibera sul decentramento amministrativo approvata in consiglio. Un fiore all'occhiero di questa amministrazione afferma a conclusione di dieci anni di governo. In sala sono presenti giunte e consiglio al completo. Rendi conteremo pubblicamente, interventi alla mano, cosa abbiamo fatto? Faremo la campagna quartiere per quartiere, aggiunge Emiliano, parlando con i baresi e ridiscutendo il futuro. Difende la sua maggioranza e la sua vitalità propositiva. Gli strali invece sono tutti per l'opposizione, accusata di non avere proposte per il futuro della città. In consiglio abbiamo fatto tutto noi sul decentramento, dice tesi, antitesi, sintesi. Anzi, il timore è che il centrodestra lasci un vuoto nella prossima campagna, che rischia di essere occupato, avverte in modo sibillino, in maniera irrazionale. Non c'è una sola personalità capace di prevedere cosa accadrà nei prossimi anni. Un fatto gravissimo, afferma, perché la campagna rischia di essere di basso profilo a causa della debolezza di pensiero del centrodestra e quindi pregiudicata, in assenza di un valido interlocutore. Insomma, il clima è già rovente e siamo solo alle prime battute.